Buongiorno ragazzi e benvenuti con questo nuovo video, sono Poe e ben ritrovati Oggi in Fortnite ho aggiunto delle nuove modalità di arena che sono molto molto difficili Con dei player veramente forti che andremo subito adesso a sfidare Mi raccomando se non siete ancora iscritti fatelo adesso in descrizione e se ho con un bello like Se vi piace il video o comunque se vi sta piacendo o se vi sto simpatico insomma Come dico sempre c'è sempre un motivo per lasciare like Inoltre ragazzi dato che ho perso veramente da pochissimo il mio canale Twitch Vi lascio qui sotto il nome di appunto di Twitch mi chiamo PoeYT Molto molto semplice vi aspetto ogni mattina alle 10 e 30 Mattina alle 10 e 30 poi vabbè di sera sapete sono sempre live su YouTube alle 20 e 30 Magari se qualcuno dovessi stare a casa da scuola o magari qualcuno non va a scuola ragazzi Lo aspetto in live che io gioco sempre con i follower là Per dire non parlare troppo anche perché oggi voglio di fare qualche bella kill succulenta Ok ragazzi allora siamo in lobby voglio prima controllare una cosa Se abbiamo messo il codice Poe nello shop l'abbiamo messo Yes ragazzi ce l'abbiamo questo è il codice segreto per vincere ogni partita su Fortnite Vediamo se andrà Eccoci qui in partita ragazzi e stiamo andando a pondere pannocchie Anche perché secondo me ci sono veramente tantissime persone O comunque tantissime è una giusta quantità insomma Però l'unica cosa è che non è che c'è tantissimo loot Anche perché sapete è stata distrutta E beh se avete visto l'evento sapete cos'è successo insomma Vediamo dove vi riesco ad atterrare non c'è nessuno Non ci credo raga ma 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 il bus andava da così E potrebbe pannocchier praticamente in mezzo non ce va nessuno Va bene allora noi andiamo a prendere questo bel fucile pesante a leva ragazzi Proviamo a fare questa bellissima partita in arena Che ci piace tantissimo Oddio a me non è che piace tanto ecco anche perché l'ho provato in live E diciamo che è molto più difficile di quanto pensassi Fidatevi che se la provate anche voi direte No ma questo non è Fortnite questa non è arena Anche perché io mi incontro le persone che sono tipo 27 livelli più forti di me Ecco io sono un sapete sono una pipa al sugo ragazzi Quindi ragazzi guardate quanti XP sto facendo in basso Semplicemente raccogliendo i cavoli Che figata ragazzi se voi volete fare qualche XP Ok so che questo magari non è il video giusto Però fidatevi che secondo me è veramente tanta roba fare gli XP così Oh mamma mia che fortuna Augoro ragazzi ma non ci credo Ma è una volta che mi succede la prima volta in vita mia Ed è pure in arena quindi ragazzi questo è proprio un segno del destino È un segno che la dobbiamo vincere questa partita Vabbè che vorrei dire usiamo il codice POW Quindi certo che la vinceremo Per questo ci darà una bella mano Sì però se non trovo nessuno è diciamo che è un po' difficile la faccenda Ragazzi vi giuro che non c'è nessuno 28 persone siamo Non ho incontrato mezza persona E sto girando tutto un po' delle pannocchie Ok c'era uno qui finalmente ragazzi Finalmente l'ho trovato Ok ci siamo distrutti a vicenda e Lui è una bella min... cioè oddio una bella minamica tanto è che ha la mia stessa arma E quindi fa tantissimo male Pure io però non scherzo nel senso Uno, due, tre, quattro Cavoli fatti andiamo Full di vita e adesso questo Non so dove sia È qua Sì dovrebbe essere qua insomma E c'è un altro tipo che viene Meno male, meno male Ok craccato No si è rubato la mia kill Mannaggino Eh beh ragazzi si è rubato la mia kill ma ci sta Capita Vediamo se riusciamo anche a uccidere Quella bomba che mi ha dato Mi ha tirato proprio una bomba Ragazzi ve l'ho detto Sono piena di gente veramente fortissima Questa Mamma mia raga Sono troppo forti ragazzi Avete visto che ci incontriamo raga Sono fortissimi Prossimo partito questa volta voglio andare un po' a pushare E potrei andare a brughiere brumose Anche perché mi sembra abbastanza vicino al boost Secondo me ci va tanta gente Non come podre pannocchia Che siamo andati prima E che non abbiamo incontrato nessuno Poi siamo usciti un attimo E abbiamo preso le botte Quindi Quindi vediamo di fare questa bella partita a brughiere Intanto vedo Uno, due, tre, quattro Ma quelle quattro persone Io non vedo Penso vado neanche a brughiere Uno, due, tre, quattro Ah voglio ragazzi Ce ne saranno anche più di dieci di persone Quindi vediamo cosa riesco a prendere Vorrei prendere questa bella mitraietta Qui c'è un bel pompa Che devo andare subito a prendere Eccolo qua Ce l'abbiamo noi E adesso Ce n'è uno qui Sì Dai 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 L'ho quasi ucciso L'ho quasi ucciso L'ho quasi ucciso A pochissima vita Ok Let's go Bene 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 L'abbiamo ucciso Sono tutti questi nomi un po' tryhard Non lo so Perché forse va di moda Non ho un'idea Insomma Eccolo qua Ne vedo uno ragazzi Ne vedo uno E Uh Ce n'è pure un altro qua Cosa sta facendo questo Lo dobbiamo andare subito a pushare Andiamo a pusharlo Andiamo a pusharlo Andiamo a pusharlo E Oh Che bomba che gli ho tirato Che bomba Ok E qui Non ha materiali Raga Let's go Ok Ucciso Bene bene Non aveva materiali Ragazzi Molto molto Anzi si aveva Aveva un po' di materiali Però non l'ho usato Va bene Comunque Usiamo questo Prendiamo questo Dato che non ho visto un altro Andiamo a pushare pure quello Eccolo lì Eccolo lì 30 30 30 30 ragazzi Ma questi qua E' una lobby di nabi Scusatemi Questo qua sta scappando Insomma No Non provarti a farci uccidere Da questo Che non ci devi provare Broder Te lo dico io Fidati di Powa E' qui dentro Raga qua sotto Ok Ok Nuovo partito Questa volta Stavo andando al lago Languido Lago Languido Ragazzi Che sarà pieno di gente Ve lo dico Spero che Un po' di gente Almeno venga Che magari Mi ucciderà Sì Però un po' di chi Le sono interessato A farle Quindi Mamma mia Siamo veramente In tantissimi Forse in troppi Guarda tutti Col deltaplano normale Tra l'altro tutti Con la skin Dei nabi Non lo so perché Anzi Piegare la skin Dei nabi Del deltaplano Dei nabi Non so se lo vedete Pure voi Ma hanno tipo Cinque persone Tutti del deltaplano Dei nabi Quindi Penso che sia Una gang Quella maligna Ma attenzione Perché siamo riusciti Ad andare No Ho trovato tutto ciò Che non volevo trovare Mannaggia Di blu pure Avemo una mitraglietta Molto molto bene Un bel pompa Sarebbe proprio perfetto Per andare a pushare Questo qua infatti Ha il pompa E mi vuole subito pushare Addirittura Uh eccolo qua il pompa Trovato Trovato Molto bene Questo qua ci servirà Tantissimo raga Anche perché È molto forte Dio non è che è fortissimo Il pompa bianco Insomma Però è comunque un pompa Questo qua lo vedo abbastanza Aggressivo E infatti Non mi voglio avvicinare Ci mancava solo Che mi uccideva Ragazzi Oh Mio dio Che kill Che kill Questa è stata una big kill No c'è un altro C'è un altro C'è un altro No 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 Devo subito andare via Perché se ce n'è un altro Fidatevi ragazzi che Powa ci muore Ci lascia le pene Già hanno una vita Poi ne arriva pure un altro A fare clean up E non è una cosa positiva Eccolo qui C'è un altro C'è un altro C'è un altro C'è un altro